ciao ciao a tutti e siamo qui giù il fiume muso si c'è un po d'ombra però ovviamente come potete vedere non stiamo a fare un video su temporali o cose simili perché purtroppo come avrete anche visto ultimamente il canale nostro non è stato così particolarmente attivo proprio perché purtroppo il tempo non è stato dalla nostra parte c'è stata parecchia alta pressione a parte un po dei temporali isolati isolati ma non era nemmeno nel caso di riprenderli perché era talmente piccoli che per noi non era così così importante fare le riprese adesso stando agli ultimi aggiornamenti avevamo visto che dovrebbe cambiare qualcosa ci dovrebbe essere importante si dovrebbe essere l'entrata del vero autunno non solo a livello delle temperature ma anche come precipitazioni da quello che dici più o meno metà settimana a fine settimana di sì già il primo avvisaghi ci dovrebbe essere domani poi c'è una pausa martedì dopo di che dovrebbe riprendere a piove mi pare giovedì adesso stando l'ultimo aggiornamento concentrati più che altro venerdì e sabato prossimo esatto però c'è tempo ancora quindi può ancora cambiare tutto sappiamo come funzionano le previsioni purtroppo che magari adesso dice così poi ci vai a vedere poco dopo già è tutto il contrario di quello che dice tanto le previsioni purtroppo è fatta in questo modo vedremo cosa ci regalerà aggiornati vi terremo per qualsiasi novità e per qualsiasi cosa ci fosse anche importante da parte del tempo soprattutto anche sulla pagina facebook di storm chaser market esatto vedremo vedremo se il tempo ci regala qualcosa di consistente speriamo bene e quindi a presto ciao a tutti ciao